Buongiorno, siamo su Dickface Oggi faremo un video sui batteri Perché lui sta male Perché io sto male, ieri ho avuto 40 di febbre, ho vomitato Ed eccolo là il malato, sul letto, con la febbre Con un falso braccio retto Se la misura per vedere quanto ha 40.1, non sa se è alta o è bassa Si tocca la fronte, il virus si sta ballando nella testa Ormai è disperato Il virus si sta salendo su Sempre più su Si tocca il polso Ma non lo trova Ormai il suo cuore si sta fermando E questo il virus lo sa Ormai è l'allucinazione Non sa distinguere più la realtà Per il virus che lo mangia E lui muore Grazie a tutti Grazie a tutti